La segnalazione arriva da chi vive a poca distanza. L'immobile in città noto come Ex-Inam, in Viale Trento e Trieste, inserito nell'elenco dei beni dell'azienda sociosanitaria territoriale, versa in condizioni di degrado preoccupanti. Sede del centro psicosociale degli istituti ospedalieri di Cremona è utilizzato per una minima parte, tre piani, nell'ala di sinistra rispetto all'ingresso. Il resto è in fase di svuotamento ormai da anni. Una procedura avviata prima dell'emergenza sanitaria, che il Covid-19 ha però bloccato a non fermarsi. È il tempo che continua a chiedere il conto ad una struttura in questo stato e per farci documentare meglio la situazione alcuni residenti di via Giacomo Bertesi ci aprono le porte di casa. Da finestre ai balconi questo è lo scenario dell'ex-Inam, piante ormai a ridosso del tetto, colonie di ratti che ci dicono essere arrivate anche nel cortile della scuola primaria Trento Trieste. Che intenzioni ha l'ospedale? È la domanda più insistente da par sua. La SST di Cremona, interpellata, ci fa sapere che ha ben presente il problema. L'attuale direzione strategica, già nel 2019, quando si insediò, fece un censimento dei beni, rilevando criticità anche della sede principale del Maggiore per via Le Trento Trieste. L'intenzione era da subito di spostare il centro psicosociale in una sede idonea in centro città. Un procedimento rimasto in stand-by causa Covid-19. L'attualità, assicurano dalla SST di Cremona, prevede sul tavolo varie progettualità per l'ex-Inam. Una volta svuotato dei restanti locali del CPS, il primo passo sarà la messa in sicurezza. Poi il futuro dell'immobile sarà strettamente correlato alle possibilità offerte da leggi e fondi stanziati per l'emergenza sanitaria.